Il piccolo bruco mai sazio. Su una foglia illuminata dalla luna c'è un piccolo uovo. La domenica esce il sole caldo e... Crac! Dall'uovo esce un piccolo bruco affamato. Il bruco cerca subito qualcosa da mangiare. Lunedì mangia una mela. Ma ha ancora fame. Martedì mangia due pere. Ma ha ancora fame. Mercoledì mangia tre prugne. Ma ha ancora fame. Giovedì mangia quattro fragole. Ma ha ancora fame. Venerdì mangia cinque arance. Ma ha ancora fame. Sabato mangia una fetta di torta al cioccolato, un gelato, un cetriolo, una fetta di formaggio, una fetta di salame, un lecca lecca, un pezzo di torta alla ciliegia, una salsiccia, un dolcetto e una fetta di anguria. Ma ora... Oh! Ha mal di pancia! La domenica il bruco mangia una grande foglia verde. E ora sta molto meglio. Ora non ha più fame. Non è più piccolo. Ora è un bruco grande e grasso. Costruisce una casetta chiamata bozzolo attorno a se stesso. Ci rimane per più di due settimane. Poi fa un piccolo buchino nel bozzolo, spinge fuori e diventa una bellissima farfalla.